Ben trovati, siamo qui a presentare una iniziativa, un docufilm sul campo di Renicci, siamo ad Anghiari, quindi nel territorio aretino. Una iniziativa che è stata realizzata dalla testata giornalistica allo web, quindi diamo il benvenuto a David Faltoni. Ecco, ci sarà la presentazione David domenica 17 settembre, proprio alla popolazione, un docufilm che noi abbiamo già ospitato nella nostra programmazione, ma appunto domenica 17 sarà presentato insieme all'Ampi, proprio alla cittadinanza. Io cito il titolo, il campo di Renicci e ad Anghiari, un lager fascista nell'aretino, ecco, produzione come dicevamo di Allo TV. Ecco, perché questa scelta intanto di... Allora, domenica sarà presente intanto anche lo storico Eric Gobetti che parlerà proprio dei campi del duce, perché non c'era solo Renicci. Allora, la scelta di presentare insieme all'Ampi e soprattutto a Sansepolcro del nostro lavoro insieme al grande storico Eric Gobetti, perché di fatto Sansepolcro è oramai il fulcro della memoria proprio del campo di Renicci. A Sansepolcro c'è il sacrario degli slavi morti in Italia, nell'Italia centrale, parla di migliaia anche lì di persone, sono conservate molte delle urne dei morti proprio di Renicci. E quindi l'Ampi Sansepolcro, che ringrazio, ha organizzato anche questa presentazione insieme a questa conferenza, e vi invitiamo tutti a venire ad assistere, perché verrà presentato quindi anche il promo del nostro documentario, che i nostri telespettatori hanno già potuto vedere, verranno presentate dei lavori aggiuntivi esclusivi e in più ci sarà questo dibattito e vi invito quindi a venire, perché sarà un momento unico e rilevante, proprio nel ricordo degli 80 anni dalla chiusura di questo lager. Diamo allora l'appuntamento proprio preciso ed esatto, domenica 17 settembre si inizia alle 10.30 presso il Museo e Biblioteca della Resistenza di Sansepolcro. Ecco, poi speriamo che questo sia il primo di una serie di fari accesi e di telecamere accese. Sì, anche perché il prossimo anno sono 80 anni di tutte le stragi, mentre questa è solo una vicenda fascista, mettiamo la responsabilità fascista, poi ci sono tutte le stragi nazi fasciste del nostro territorio che avvendono nell'estate del 44, quindi il prossimo anno sicuramente realizzeremo altri documfilm su molte di queste stragi. Grazie allora ad Alò Web TV e grazie insomma alla squadra tecnica, io ci metto anche la nostra insomma, che ha realizzato questo docufilm. Sì, grazie a tutti noi, a tutti i nostri tecnici e tutte le nostre idee che messe insieme hanno fatto questo lavoro bellissimo.